C'è tempo fino al 30 novembre per votare Filicudi Wildlife Conservation sul sito montenegro130.it nell'ambito del contest dedicato al volontariato organizzato da Amaro Montenegro. In palio un contributo economico per sostenere le attività dei volontari e implementare il centro di pronto soccorso tartarughe marine di Filicudi. Il noto marchio in occasione dei 130 anni donerà infatti 130.000 euro a 10 associazioni no profit attraverso lo share funding. Per votare basta collegarsi al sito, andare nella sezione share funding e selezionare Filicudi Wildlife Conservation tra le 10 associazioni in concorso. Ogni utente potrà esprimere un solo voto utilizzando lo strumento di condivisione delle piattaforme social. Sulla base della classifica finale Montenegro assegnerà contributi economici alle associazioni coinvolte nel progetto. 30.000 euro alla prima associazione classificata, 20.000 euro alla seconda, 11.000 alla terza, diminuendo il budget col calare della classifica fino ai 4.000 euro per la decima classificata. Filicudi Wildlife Conservation è un'associazione no profit volta allo studio e alla conservazione delle risorse marine dell'arcipelago eoliano. Le attività sono orientate alla ricerca e monitoraggio di cetacei e tartarughe marine, con lo scopo di tutelare queste specie in tutta l'area delle isole Olie, ma con base logistica presso l'isola di Filicudi. Sente scorrere il mare.